Secondo quarto, primo periodo che era andato via anche in maniera piacevole questo secondo invece fa più difficoltà a decollare e intanto due punti facili per Nettlin Sì, diciamo che il primo quarto Trasolini contro Peric lo scarcò per il numero 6 Bartolucci a tre punti a segno Linnart canestro importantissimo Assolutamente sicuro per i suoi assist infatti anche qui poteva passare la palla non l'ha fatto L'errore dall'altra parte di Johnson Vitali riparte con Linnart che prova la penetrazione canestro ancora di Linnart in controtempo 5 punti molto importanti Terzo e quarto periodo di nuovo in campo con il numero 6 Andrea Bartolucci Busso porta avanti palla cerca di servire pecile Linnart prova il tiro della disperazione attenzione e canestro di Nettlin 64 a 46 si accende improvvisamente il tagliercio in questo finale qui è successo un po' di tutto intanto rivediamo con precisione chirurgica Nettlinart al segno canestro che può cambiare emotivamente anche della Reier nei quarti di Coppa Italia ovvero la squadra che finirà al primo posto Isla intanto in campo e la schiacciata di Nate Linnart che vuole marchiare a fuoco la sua partita il momento in cui bisogna forzare è il momento in cui vino a giocare con la squadra ultimi due minuti di gara Smith raddoppiato Danosi che ribalta molto bene ancora per Nettlinart la tripla al segno anzi il tiro da due punti ma con questo canestro non so se sei d'accordo Alberto il premio quindi vittoria e qualificazione alle finali di Coppa Italia altro importante traguardo raggiunto ancora più importante se pensiamo all'avvio difficile di questa stagione altra tripla intanto al segno per Nate Linnart che ha preso grazie a tutti